Qualcuno vi ha criticato anche un po' per la comunicazione. Che cos'è un congiunto? Eh no, perché sa, molti non l'hanno capito. Ragazzi, è una persona a cui vuoi bene, è una persona a cui sei legato. Vabbè, allora la maglia è abbastanza larga. Dovevamo allentare, no, senza distinzione di sesso, di razza, di religione, se vuole, se li elenco tutte, qui ci vuole buonsenso, ci vuole buonsenso, amore verso gli altri, nel senso che quella cosa è stata fatta per dire non è possibile che andiamo a trovare l'amico che di solito vedevamo una volta a settimana, per quanto caro. Vai a vedere mamma, papà, il compagno, la compagna, indipendentemente dalla tua condizione civile e per i prossimi 15 giorni faccio la cortesia di continuare a mantenere rigorosamente le distanze, così come abbiamo fatto in questi due mesi e mezzo per non rovinare tutto.